Con questo tutorial vediamo degli esercizi di ripilo così radicali. Allora, partiamo da questo primo esempio. Qui ho un prodotto tra radicali e allora vado a scrivere radice quadrata di 2 più radice di 3 che moltiplica 2 meno radice di 3 meno radice di 5 meno 2 radice di 6 meno 1. A questo punto sviluppo questo prodotto ed ottengo radice di 2 per 2 che fa 4 meno radice di 3 per meno radice di 3 quindi fa 3 meno radice e il resto ricopio. Ora, 4 meno 3 fa 1, quindi ho radice di 1, radice di 1 è 1, quindi questa quantità vale 1. Qui ho meno 1 e posso andare a semplificare quindi questa quantità con questa quantità ed ottengo meno radice di 5 meno 2 radice di 6. Questa quantità all'interno della radice mi piacerebbe adesso scriverla in un'altra maniera. Questo è un radicale doppio. L'idea è cercare di scrivere questa quantità come un quadrato di binomio. Allora faccio questa osservazione. 5 meno 2 radice di 6 lo posso pensare scritto come 5 meno 2 radice di 3 per radice di 2. Questa quantità immagino che sia il doppio prodotto di un quadrato di binomio dove i termini in questione sono proprio radice di 3 e radice di 2. E allora vado a scrivere radice di 3 meno radice di 2 al quadrato. Se voglio fare una verifica provo a risviluppare questo quadrato di binomio ed ottengo radice di 3 al quadrato, cioè 3, più radice di 2 al quadrato che è 2, meno il doppio prodotto radice di 3 per radice di 2 che fa 6. E quindi ottengo effettivamente 5 meno 2 radice di 6. Allora vuol dire che questa quantità sotto radice la posso scrivere come radice di 3 meno radice di 2 al quadrato con l'accortezza di mettere il termine maggiore positivo, cioè radice di 3 meno radice di 2 è effettivamente una quantità positiva. A questo punto vado a ricopiare ed ottengo meno radice, quindi al posto di 5 meno 2 radice di 6, vado a scrivere radice di 3 meno radice di 2 al quadrato. Radice di 3 meno radice di 2 al quadrato. E a questo punto posso andare a semplificare la radice con il 2 ed ottenere meno radice di 3 più radice di 2. Vediamo questo altro esempio. Allora, ho una divisione tra radicali. La prima cosa che faccio da diviso passo a per e vado a riscrivere come radice di 3 meno radice di 2 fratto 6 per radice di 3 meno radice di 2 fratto radice di 2 meno 3. A questo punto ho una moltiplicazione e lo scopo è mettere tutto quanto all'interno di un'unica radice. Devo fare un'osservazione su radice di 2 meno 3. Per portare questa quantità all'interno della radice mi devo garantire che questa quantità deve essere maggiore di 0. A questo punto lo vado a riscrivere cambiando disegno e vado a scrivere meno radice di 3 meno radice di 2 fratto 6 per radice di 3 meno radice di 2 fratto 3 meno radice di 2. In questa maniera 3 meno radice di 2 è una quantità maggiore di 0 e posso portarla all'interno della radice. e vado a riscrivere meno un'unica radice 3 meno radice di 2 fratto 6 per 3 meno radice di 2 fratto... Ora, portando questa quantità all'interno della radice devo andare a scrivere 3 meno radice di 2 al quadrato. Ora ho 3 meno radice di 2 per 3 meno radice di 2 e ottengo 3 meno radice di 2 al quadrato e posso andare a semplificare questo, questo e questo ed ottenere meno radice di 1 su 6 e quindi ottengo meno 1 fratto radice di 6. Posso razionalizzare, quindi vado a moltiplicare sopra e sotto per radice di 6 ed ottenere infine meno radice di 6 su 6. Vediamo quest'altro esempio. Allora, qui la prima cosa che faccio è prendere questo 1 mezzo e portarlo all'interno di questa radice. Così prendo questo 1 mezzo e lo porto all'interno di questa radice. Allora ho radice quadrata per radice terza, ottengo radice sesta di 1 mezzo alla terza per 1 mezzo. Questo 1 mezzo alla terza lo ottengo portando questo 1 mezzo all'interno di questa radice. poi diviso radice di, allora radice terza per radice quadrata ottengo radice sesta e poi ho questo 1 mezzo, lo prendo e lo porto all'interno di questa radice e do 1 mezzo al quadrato per 1 mezzo per radice terza di 2. A questo punto ho radice sesta di 1 mezzo alla quarta diviso radice sesta di 1 mezzo alla terza per radice terza di 2. Ora ho radice sesta di 1 mezzo alla quarta diviso radice sesta di 1 mezzo alla terza e allora ottengo radice sesta di 1 mezzo perché ho fatto la sottrazione degli esponenti cioè 4 meno 3 per radice terza di 2. A questo punto vado a fare il minimo comune indice ed ottengo radice sesta di 1 mezzo per 2 alla seconda e quindi ottengo radice sesta di, vado a semplificare questo 2 con questo 2 e quindi radice sesta di 2. Vediamo quest'altro esempio, allora la prima cosa che faccio è sviluppare questo quadrato di binomio e questo quadrato di binomio e allora vado a scrivere quindi radice di 3 al quadrato è 3 più 2 radice di 2 al quadrato ottengo 4 per 2 e quindi vado a scrivere 8 più il doppio prodotto quindi 4 radice di 6 meno a protonda quindi radice di 6 al quadrato fa 6 più 2 alla seconda che fa 4 più il doppio prodotto che è 4 radice di 6 poi per e questa quantità la ricopio 3 radice di 6 meno 2 fratto 2 radice di 3 ora faccio un po' di conti all'interno della parentesi 3 più 8 più 4 radice di 6 meno 6 meno 4 meno 4 radice di 6 per il ricopio 3 radice di 6 meno 2 fratto 2 radice di 3 a questo punto posso andare a semplificare questo 4 radice di 6 con meno 4 radice di 6 poi vado a sommare 3 più 8 che fa 11 meno 10 fa 1 e quindi ottengo soltanto questa quantità vado a ricopiare ed ottengo 3 radice di 6 meno 2 fratto 2 radice di 3 questa quantità può essere riscritta in questa maniera come 3 radice di 6 fratto 2 radice di 3 meno 2 fratto 2 radice di 3 in questa maniera posso andare a semplificare questo 2 e questo 2 quindi qui ottengo 1 e poi vado a riscrivere in questa maniera quindi 3 mezzi radice di 6 terzi cioè 2 quindi vado a scrivere radice di 2 meno 1 fratto radice di 3 a questo punto vado a razionalizzare questo radice di 3 e allora ottengo 3 mezzi radice di 2 meno radice di 3 su 3 vediamo quest'altro esempio allora qui la prima cosa che vado a fare è sviluppare questo quadrato di binomio e poi andare a fare il minimo comune multiplo quindi la prima parte la vado a ricopiare così com'è radice di 5 più radice di 6 fratto radice di 5 meno radice di 6 meno radice di 5 fratto 2 radice di 5 meno quindi il quadrato del primo più il quadrato del secondo più il doppio prodotto quindi 5 per 6 che fa 30 a questo punto vado a fare il minimo comune multiplo ed ottengo come minimo comune multiplo 2 radice di 5 questa quantità la devo moltiplicare per quello che non ha denominatore cioè 2 e allora devo andare a scrivere 2 che moltiplica radice di 5 e radice di 6 e quindi scrivo 2 radice di 5 più 2 radice di 6 poi questa quantità la vado a riscrivere con il segno meno e scrivo meno radice di 6 più radice di 5 meno questa quantità la devo moltiplicare tutta quanta per 2 radice di 5 e allora scrivo 2 radice di 5 che moltiplica 6 più 5 che fa 11 più 2 radice di 30 a questo punto vado a sommare 2 radice di 5 più radice di 5 ed ottengo 3 radice di 5 poi ho 2 radice di 6 meno radice di 6 ed ottengo più radice di 6 e poi vado a fare questa moltiplicazione e quindi ottengo meno 22 radice di 5 poi meno 4 radice di 5 per 30 che fa 150 tutto quanto fratto 2 radice di 5 a questo punto devo semplificare radice di 150 e vado a riscrivere 3 radice di 5 più radice di 6 meno 22 radice di 5 poi ho radice di 150 che lo posso immaginare scritto come 5 radice di 6 quindi 5 radice di 6 per 4 e allora vado a scrivere meno 20 radice di 6 tutto quanto fratto 2 radice di 5 a questo punto vado a sommare 3 radice di 5 meno 22 radice di 5 ed ottengo meno 19 radice di 5 poi ho radice di 6 meno 20 radice di 6 ed ottengo meno 19 radice di 6 tutto quanto fratto 2 radice di 5 a questo punto posso andare a mettere in evidenza a numeratore un meno 19 e metto anche un meno 19 mezzi già che ci sono e quindi scrivo radice di 5 più radice di 6 tutto quanto fratto radice di 5 a questo punto vado a razionalizzare quindi moltiplico sopra e sotto per radice di 5 ed ottengo quindi meno 19 mezzi che moltiplica 5 più radice di 30 tutto quanto fratto 5 e quindi ottengo meno 19 decimi che moltiplica 5 più radice di 30 vediamo quest'altro esempio allora qui devo portare fuori dalla radice questo 24 questo 12 e questo 18 e allora vado a riscrivere al posto di radice di 24 scrivo 2 radice di 6 tutto quanto fratto 6 più al posto di radice di 12 scrivo 2 radice di 3 fratto 3 meno e al posto di radice di 18 scrivo 3 radice di 2 fratto 2 tutto quanto per radice di 2 poi ho un diviso da diviso passo a per e scrivo per radice di 2 meno 1 fratto radice di 2 meno e questa quantità la ricopio quindi 2 radice di 6 più 18 più 9 radice di 2 fratto 6 ora vado a semplificare questo radice di 2 con radice di 2 poi posso fare un'altra semplificazione perché qui ho un 2 e qui ho un 6 e quindi faccio 2 diviso 2 fa 1 6 diviso 2 fa 3 a questo punto vado a fare il minimo comune multiplo di questa quantità e poi vado a moltiplicare per radice di 2 meno 1 ed ottengo 2 radice di 6 più 4 radice di 3 meno 9 radice di 2 fratto 6 per radice di 2 meno 1 meno e qui ricopio a questo punto devo fare questa moltiplicazione quindi questa quantità per radice di 2 meno 1 ed ottengo 2 radice di 12 più 4 radice di 6 meno 18 meno 2 radice di 6 meno 4 radice di 3 più 9 radice di 2 poi meno siccome che qui ho un 6 a denominatore e qui ho un 6 a denominatore posso andare a ricopiare direttamente questa quantità e mettere tutto sotto un'unica frazione la frazione è tutto quanto fratto 6 quindi meno e ricopio questa quantità con i segni cambiati e quindi scrivo meno 2 radice di 6 meno 18 meno 9 radice di 2 a questo punto posso effettuare delle semplificazioni quindi tolgo questo con questo poi ho 2 radice di 6 e 2 radice di 6 fa questo con questo meno 4 radice di 6 più 4 radice di 6 posso semplificare tutto quindi questo con questo con questo a questo punto vado a semplificare questo radice di 12 radice di 12 non è nient'altro che 4 per 3 ossia 2 radice di 3 con un 2 di fronte non è nient'altro che un 4 radice di 3 quindi questa quantità la posso semplificare con questa quantità quindi questo va via con questo quello che mi resta è meno 18 meno 18 ossia meno 36 fratto 6 ora meno 36 sesti è uguale a meno 6 vediamo quest'altro esempio allora qui la prima cosa che devo fare è sviluppare i calcoli all'interno di questa parentesi quindi questa quantità la vado a ricopiare così com'è sviluppo questo quadrato di binomio ed ottengo il quadrato del primo più il quadrato del secondo e il doppio prodotto meno questa è una differenza di quadrati quindi scrivo 5 meno 1 più 1 meno 2 radice di 5 tutto quanto fratto 3 meno apro tonda e sviluppo questo quadrato di binomio e quindi scrivo 3 più 1 meno 2 radice di 3 questa quantità la vado a ricopiare così com'è e qui ottengo 5 più 1 meno 2 radice di 5 meno 5 più 1 più 1 meno 2 radice di 5 fratto 3 meno 4 meno 2 radice di 3 posso semplificare qui questo 5 con meno 5 e poi andare a ricopiare questa quantità e fare il minimo comune multiplo ed ottengo quindi apro la quadra il minimo comune multiplo è 3 allora ho 1 più 1 che fa 2 per 3 fa 6 poi ho meno quindi questo 2 lo moltiplico per 3 ed ottengo 6 radice di 5 più 1 meno 2 radice di 5 meno 4 più 2 radice di 3 ora 6 più 1 fa 7 mentre meno 6 meno 2 fa 8 quindi vuol dire che questa quantità non è nient'altro che 7 meno 8 radice di 5 a questo punto posso semplificare allora questa quantità con questa quantità quindi questo va via con questo poi ho un 6 e un 3 e posso semplificare allora 3 diviso 3 fa 1 6 diviso 3 fa 2 vado a ricopiare ed ottengo 2 che moltiplica radice di 3 più 1 fratto radice di 3 meno 1 meno 4 più 2 radice di 3 vado avanti e qui devo razionalizzare quindi moltiplico sopra e sotto per radice di 3 più 1 e scrivo 2 che moltiplica radice di 3 più 1 per radice di 3 più 1 fratto radice di 3 meno 1 per radice di 3 più 1 meno 4 più 2 radice di 3 uguale allora qui ho un radice di 3 più 1 per radice di 3 più 1 quindi non è nient'altro che un radice di 3 più 1 alla seconda e quindi scrivo radice di 3 più 1 alla seconda fratto radice di 3 meno 1 per radice di 3 più 1 ottengo 3 meno 1 meno 4 più 2 radice di 3 vado a sviluppare questo quadrato di binomio e riscrivo 2 a protonda quadrato del primo quadrato del secondo e il doppio prodotto fratto 3 meno 1 è 2 meno 4 più 2 radice di 3 vado a semplificare questo 2 con questo 2 ed ottengo quindi 3 più 1 che fa 4 più 2 radice di 3 meno 4 più 2 radice di 3 a questo punto posso andare a semplificare questo 4 con il meno 4 e poi sommare 2 radice di 3 con 2 radice di 3 ed ottenere 4 radice di 3 vediamo quest'altro esempio allora qui vado a semplificare questa radice di 18 e questa radice di 8 poi ho un 3 e un 6 e posso semplificare subito per 3 quindi 3 diviso 3 fa 1 6 diviso 3 fa 2 quindi mi resta radice quadrata di 2 quinti vado a ricopiare e scrivo 5 fratto 1 meno radice di 3 alla seconda apro la quadra allora radice di 18 è 9 per 2 la radice di 9 è 3 quindi 3 per 2 che fa 6 radice di 2 meno 2 radice di 3 fratto radice di 5 poi più radice di 8 lo scrivo come 2 radice di 2 meno 6 che moltiplica radice quadrata di 2 quinti a questo punto vado a fare qui all'interno il minimo comune multiplo a questo punto osservo che radice di 2 quinti lo posso scrivere come radice di 2 fratto radice di 5 quindi vuol dire che questa quantità e questa quantità hanno lo stesso denominatore cioè radice di 5 e allora vado a riscrivere 5 fratto 1 meno radice di 3 al quadrato per unica linea di frattura e metto radice di 5 a denominatore e scrivo 6 radice di 2 meno 2 radice di 3 e devo andare a moltiplicare questa quantità per radice di 2 e allora ottengo 2 radice di 2 per radice di 2 ho radice di 2 per radice di 2 e 2 per 2 che fa 4 poi meno 6 radice di 2 ora posso semplificare questo 6 radice di 2 con meno 6 radice di 2 ora vado a sviluppare questo quadrato di binomio e vado a scrivere 5 fratto il quadrato del primo il quadrato del secondo e il doppio prodotto per 4 meno 2 radice di 3 fratto radice di 5 ora 3 più 1 fa 4 quindi ho 4 meno 2 radice di 3 qui ho 4 meno 2 radice di 3 e allora posso semplificare questa quantità con questa quantità quello che mi resta è 5 fratto radice di 5 ora vado a razionalizzare moltiplicando sopra e sotto per radice di 5 ed ottenere 5 radice di 5 fratto 5 semplifico ed ottengo come risultato radice di 5 vediamo quest'altro esempio allora qui vado a fare il minimo comune multiplo da diviso passa per e radice di 27 lo vado a scrivere come radice di 3 e poi vado a sviluppare questo quadrato di binomio allora ottengo apro la quadra minimo comune multiplo e do radice di 7 più 1 che moltiplica radice di 7 meno 1 allora vuol dire che questo 1 lo devo moltiplicare per quello che non ha denominatore e quindi scrivo radice di 7 meno 1 meno apro la tonda quest'altro 1 lo devo moltiplicare per quello che non ha denominatore e quindi scrivo radice di 7 più 1 chiudo la tonda da diviso passo a per 6 fratto al posto di radice di 27 vado a scrivere 3 radice di 3 tutto quanto al quadrato meno 2 fratto qui sviluppo questo quadrato ed ottengo 25 più 2 più 10 radice di 2 meno 10 radice di 2 posso semplificare questa quantità con questa quantità ora vado a fare un po' di calcoli all'interno della quadra e allora scrivo radice di 7 meno 1 meno radice di 7 meno 1 fratto quindi 7 meno 1 per qui ho un 6 e un 3 che posso semplificare quindi 3 diviso 3 fa 1 6 diviso 3 fa 2 quindi per 2 fratto radice di 3 tutto quanto al quadrato meno 2 fratto 27 poi vado a semplificare radice di 7 con meno radice di 7 ed ottengo meno 1 meno 1 che fa meno 2 fratto 7 meno 1 che fa 6 per 2 fratto radice di 3 tutto quanto alla seconda meno 2 27 ora posso semplificare questo 2 con questo 6 6 diviso 2 che fa 3 ed ottengo meno 2 fratto 3 radice di 3 tutto quanto alla seconda meno 2 27 sviluppo questo quadrato ed ottengo 4 fratto quindi 3 alla seconda è 9 radice di 3 alla seconda è 3 e quindi 9 per 3 fa 27 meno 2 27 e quindi ottengo 2 27 vediamo quest'ultimo esempio qui la prima cosa che vado a fare è razionalizzare poi porto questo 2 all'interno della radice cubica e da diviso passa per allora vado a riscrivere radice di 3 meno radice di 2 quindi se razionalizzo vuol dire che devo moltiplicare sopra e sotto per radice di 3 meno radice di 2 allora devo scrivere radice di 3 meno radice di 2 al quadrato fratto radice di 3 più radice di 2 che moltiplica radice di 3 meno radice di 2 per a denominatore scrivo 4 radice cubica di 4 poi 5 più allora radice quadrata per radice terza fa radice sesta poi porto questo 2 all'interno ed ottengo 2 alla terza per 3 tutto quanto elevato al cubo a questo punto posso semplificare questo 3 con questo 6 quindi 3 diviso 3 fa 1 6 diviso 3 fa 2 e quindi mi resta radice quadrata di 2 alla terza per 3 poi da diviso passo a per e quindi scrivo per radice terza di 4 in questa maniera vado a semplificare questa quantità con questa quantità ora sviluppo questo quadrato di binomio e ottengo 3 più 2 meno 2 radice di 6 fratto 3 meno 2 per 5 più allora qui posso portare un 2 fuori dalla radice e scrivere 2 radice di 6 fratto 4 ora mi faccio due conti ed ottengo quindi 3 più 2 fa 5 e quindi scrivo 5 meno 2 radice di 6 a denominatore ottengo 3 meno 2 che fa 1 quindi non scrivo nulla per 5 più 2 radice di 6 tutto quanto fratto 4 a questo punto sviluppo questa differenza di quadrati ed ottengo quindi 5 per 5 che fa 25 meno 4 per 6 fratto 4 e quindi ottengo 25 meno 24 fratto 4 ossia un quarto e con questo esempio termino questo tutorial su esercizi di ripilogo sui radicali che si è un quarto che si è un quarto che si ha un quarto